Forse è qualcuno venuto per la camera in affetta? Sono pittore. Mi ricordi qualcuno? In realtà mi chiamano tutti Elisabeth. Mio padre mi chiama Ellie. Quel Kurt non mi piace affatto. Dobbiamo fare in modo che Ellie non lo frequenti troppo. Perché? Non è geneticamente quello che io desideravo. I tuoi occhi hanno visto più di quanto abbiamo visto tutti noi. Come mai tuo padre è andato proprio a Candace? Non vuole che se ne parli. Per quale motivo non ci lascia in pace? Perché scompare dalla nostra vita? Per quale motivo non ci lascia in pace? Per quale motivo non ci lascia in pace? Perché?